Il veneto è l'evento conclusivo degli Open Days che vede il Veneto protagonista a Bruxelles di un cluster formato da tantissime regioni d'Europa, tantissime città europee e che ha avuto quest'anno appunto come tema specifico quello della cultura, degli itinerari culturali e di quello che la cultura riesce a mettere in moto a livello anche di indotto economico per quanto riguarda il nostro continente quindi ancora una volta l'evento protagonista è una cosa che seguivo da anni come assessore ai rapporti con la comunità europea che sto seguendo anche da Presidente del Consiglio e che veramente ci permette di fare rete con tantissime realtà ci permette di mettere in moto anche dinamiche che vanno ben oltre appunto il progetto Open Days ma che poi rendono questi partner disponibili e amici per potersi anche confrontare con finanziamenti a regia diretta della Commissione europea quindi un lavoro propedeutico non solo per gli Open Days, non solo per l'Europe of Tradition ma che permette di avere appunto amici a Bruxelles in grado di fare e presentare progetti assieme in grado di fare lobby quando abbiamo bisogno di portare le nostre istanze in Commissione europea La cultura ha una missione, una missione importantissima che è di conoscere, di mettere insieme tutto il popolo e di conoscere le culture, se si è disviluppata noi abbiamo meno casi terribili come questo e siamo siente, siamo veramente a puntare dove essere la ragione di questo terrorismo, di questi attentati la cultura è un meccanismo, è veramente un'arma, la cultura è un'arma contro esattamente questo terrorismo e attentato